Sempre più tormentata la movida isernina e continua il botte risposta tra l'amministrazione comunale e la consigliera d'opposizione Rita Paola Formichelli. Dopo le accuse contro l'ordinanza da parte dell'avvocato ex candidata sindaco, l'assessore Domenico Chiacchiari ha risposto così. Un consigliere comunale prima di parlare dovrebbe releggere gli atti che questa amministrazione ha prodotto e tutti gli appalti che sono stati fatti a dicembre. Noi abbiamo in essere nove cantieri per quanto riguarda il decoro urbano aperti nella città e la consigliera Formichelli ha parlato soltanto di piazza tua, mi sembra strano, o la consigliera Formichelli è caduta in letargo a novembre e si è risvegliata poche settimane fa. Quello che è successo è sotto gli occhi di tutti, naturalmente il covid ha ritardato notevolmente i lavori che erano già in corso, ma i lavori sono in corso, i cantieri sono aperti, è impossibile non vederli. Immediata la replica della Formichelli che afferma alle censure politiche si fanno repliche politiche, non attacchi personali e commenti di basso livello. L'assessore Chiacchiari ha detto che da novembre sono stati acquistati i cestini, ma non ci ha detto perché li ha tenuti in deposito fino a maggio e si è deciso a metterli solo dopo quello che è successo. Incito i ragazzi alla disobbedienza, esclama la Formichelli. Mi sembra che solo grazie alla loro disobbedienza abbiamo ottenuto la pulitura del centro storico la domenica mattina e il posizionamento dei cestini, forse conservati per un colpo di teatro sotto campagna elettorale. E ancora abbiamo scoperto che ci sono nove cantieri pronti. L'assessore e il sindaco confondono la manutenzione ordinaria con quella straordinaria. Non ci vogliono cantieri per pulire delle erbacce. Assessore all'ambiente, ci dica cosa ha fatto per i liquami nel fiume sordo. Assessore Chiacchiari ha riverniciato la ringhiera del corso, ma ci parli dello scempio dell'asfalto di Corso Garibaldi. Un anno per rifare il laghetto della villa comunale, per giunta sbagliato. Dopo 60 anni non ci sono più le oche. Bravi e in ultimo siamo ancora in attesa di capire, conclude la Formichelli, chi ha gestito l'appalto delle strisce blu. Sbaglio, dice l'avvocato, o era l'assessore Chiacchiari? Concludo, al di là delle vostre esternazioni, l'ordinanza del sindaco è un non senso e nonostante gli sforzi interpretativi, difficilmente potrà essere applicata.